Sto chiudendo, sei già, sei la piccola mia, sei un giampetto di me Amore! Qua è amore? Che è quale, ma è amore per amare Cinque ordinali Sempre prima, mi per amare Voi, mi mi fai nando, se stai Voi, mi fai nando, se stai Quekado in teore, a ti si c'è più me Mamma in teore, a teore e a teore Mi chai sui me, non è il tuo video ci vedo Noi guarda, vai a teore e a teore Grazie a tutti A presto. Il nostro corso è il nostro corso Perchè l'impasto che lo soれ Poi cogliere la mia piacera Si è una mia mia piacera Non è mia piacera, l'Espiscio,onga, la mia piacera La mia piacera è una piacera, L'Espiscio è una piacera, La mia piacera è una piacera, Si è una piacera, Si è una piacera che è una piacera Io ho i tuoi, No, no, no. Mamma! E luiторrouli Il nostro obviore Gesù è dated. La mamma è fatta C'è un concetto che non è più che iniziato a cossi Siamo signata come una sorta 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 di Doi No, non è mai così C'è un concetto che non si tratta fosse un po' E' un concetto che è un concetto C'è un concetto questo E' un concetto C'è un concetto di concetto Il concetto di concetto della concetto Il concetto di concetto non è l'incetto Sono stati scritto di dire che se c'è un amico da me esprime e che si siamo chassi non sopra dove c'è un'altra perché c'è qualcuno per farmi si è un'altra Quindi per favore, non deuveää tutti tutti iniziati Mi spezi un bel deno Mi fovece è un bel? Si, la committed Giapio è un bel pasi Quai è un bel ? Quai è un bel ma? Quai è un bel? Quai è un bel? Quai è un bel? Non posso! Mamma puoi un bel? Mamma non è un bel? Quindi a chi sa trallettate? Non c'è? Non c'è un'altra cosa che non c'è? Sbagliare, non c'è mai che era questo? Allora, non c'è mai? Questo non c'è ancora è l'abbò, non c'è mai mai. E tu non c'è mai? Qui ha mai avuto? È un'altra cosa. È un'altra cosa che vive in questo. È un'altra cosa che non c'è stato più le 10 anni, non c'è più le 10 anni. Ii non chiede? Ii non chiede. Khi non chiede perché ormai un po' opere. Cammera, cammera. Ciao, ciao a tutti i facetti? Ok, ok. C'è il mio fuori gli ho provato. È un paese per il mio amore. Non parlò di la mamma. Nel mio che chiede mi dico a sucka una scala? Voi quando si è la scala una scala? Uo, sei ancora ancora. Infatti, non lo vessa. Amiciabili, ci estamos solo? Non lo vengono. Non lo vengono. Non lo vengono. Non lo vengono ancora. il modo in cui si sono qui mi fanno 30 centimet volte come si si è ancora più bravo anzi, non mi ha di tutto di cui mi ha mai fatto la parte di qui non trasformato non c'è nume raff! non ho dei Scandinavia, non c'è l'eite non troppo da dove prendere si suono, non s'ilassi guarda, stai a prendere dentro del nostro lavoro ok, non ho ti senti a esci boy ah guarda, purtroppo, non tre non lo rimane, non lo rimane Grazie a tutti.